Daniele Salerno 1 a 1 sulla carta e prima di questa gara un buon risultato vedendo il primo tempo pensavamo poteste prendere qualcosa in più nella ripresa è uscito il Castiadas ci sta vice capolista aveva tutti quei punti di vantaggio li ha mantenuti ma credo nel complesso siate soddisfatti assolutamente sì soddisfattissimi dalla prestazione soprattutto i ragazzi hanno approcciato subito la gara proprio come l'avevamo impostata in settimana peccato che comunque sendo in vantaggio per tutto il primo tempo e gran parte del secondo portare a casa solo un punto un po' di rammarico c'è ma merita naturalmente al Castiadas che sta facendo un gran campionato sempre lì in testa niente da recriminare nel primo tempo potevate approfittare un po' di più del fatto che stavate meglio voi in campo dopo l'1 a 0 avete avuto anche l'occasione per fare il 2 a 0 quella che mi ricordo più limpida di Antonio Pili ma c'è stato anche qualcos'altro forse lì prendevate il massimo ma potevate dare la mazzata agli avversari certo certo assolutamente c'è da anche da dire che anche loro sono presentati molto spesso in area di rigore nostra creando buone occasioni due gol di fuorigioco annullati sì e poi quella di Simone Conto soprattutto ha preso l'esterno della rete che si deve mandare sul 2 a 0 però secondo me tutto sommato nel complesso il risultato è più che giusto cosa è dovuto questo cambio di rendimento del Tortoli al Castiadas oppure avete speso molto nel primo tempo un po' sulle gambe nella ripresa perché loro viaggiavano più veloce sì ti dico non ti nascondo che la partita in settimana l'ho preparata diversamente perché mi aspettavo un sistema di gioco diverso da parte loro con gli stessi interpreti ma con un sistema di gioco diverso così non è stato però ci siamo subito messi a parare appunto dove loro creavano superiorità ti dico che da dentro il campo invece sì loro prendevano sopravvento sulle fasce ma nonostante tutto tamponavamo abbastanza bene quindi da quel punto di vista non sono stato non sono non mi hanno sorpreso più di tanto però il secondo tempo ne è uscita anche la qualità del Castiadas naturalmente cosa vi dà questo pareggio eravate a due punti dai playoff state facendo un bel campionato senza pressioni ma rimediando a qualche passo falso e il campionato sta aspettando tante squadre comprate il Tortulli esatto non c'è niente con i secondi e con i mani non si va da nessuna parte la classifica è questa e questa ci teniamo naturalmente non ti nascondo come ho detto al tuo collega che vincendo qui poteva volevamo puntare anche al secondo posto un pizzico di presunzione ci sta sempre perché comunque ti devi mettere sempre degli obiettivi però diciamo che il terzo posto è la portata abbiamo dieci partite da affrontare una dopo l'altra e credo che gli obiettivi comunque continuano ad essere quelli arrivavate da due gare vinte in casa quindi lì state state facendo valere il fattore fra luci e quindi ritornati in casa all'Orolese è un'altra sorpresa del campionato sì una bellissima sorpresa infatti faccio i complimenti a Marco che sta tirando su un gruppo diciamo di sì siamo quest'anno la promozione sta tirando su allenatori giovani ed è bello ed è bello perché con Cristian con Marcello con Marco diciamo che abbiamo giocato più o meno tutti questi stessi anni però sì affrontiamo l'Orolese il fra luci deve essere il nostro fortino infatti abbiamo fatto le vittorie maggiori in casa purtroppo è una pecca che ci portiamo dall'inizio il mal di trasferta come si dice un po' lo stiamo pagando però il campionato è questo non c'è tempo per migliorare anche questo assolutamente però mancano dieci partite due mesi ne passa ancora di acqua sotto i punti grazie Daniele complimenti comunque per tutti e bocca a luce per questo finale di caldo grazie a voi grazie a voi grazie mille